Benvenuti a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, sono Skelepub e oggi siamo tornati in un nuovo video su Fortnite. Questa challenge cosisterà nel non utilizzare il piccone, infatti ho già cambiato tasto, io uso G di solito per il piccone e ho messo F12. Quindi raga che dire, andiamo subito in partita, intanto nella teta del caricamento vi ricordo di iscrivervi al canale che abbiamo raggiunto 50 iscritti, quindi ho il prossimo obiettivo 60 iscritti e lasciate like e arriviamo a 5 like per un prossimo video. Allora, comunque raga mancano 6 giorni, 5 ore, 37 minuti e 25 secondi all'evento, poi il 4 giugno cambierà il pass. Se vi chiedete perché sono così basso di livello del pass, perché questo è il mio secondo account, se volete arriviamo, facciamo 10 like per questo video, vi mostro il mio primo account. e niente, però ragazzi intanto per il caricamento vi dico che circa 100 iscritti o più o meno a luglio inizierò a fare le live con mio fratello. Quindi iscrivetevi al canale se volete vedere delle live. Allora, io le live le farò circa 100 iscritti, quindi potrebbe essere anche 80, oppure a luglio, forse a luglio inizieremo. Luglio, fine luglio, inizio, vabbè. Ragazzi direi di buttarci subito eh, andiamo tipo a bordo. So che c'è tanta gente eh, però un po' si deve rischiare nella beta. Quindi prima partita aggressivi. poi magari se ci sarà bisogno di una seconda, faremo... staremo un po' più tranquilli, tipo andremo a siepi o... Vabbè andremo a siepi, poi si vedrà se ci sarà bisogno di un'altra partita. Quindi ragazzi allora io vado in questa casa qui, non posso usare il piccone. Sarà molto difficile, però ragazzi spero che vi piaccia il video. Ragazzi quindi devo entrare da sotto alla fine. è perché se non posso spaccare qua sopra. Devo entrare da sotto. No ragazzi, un'arma per piacere, per piacere. Un'arma, ragazzi, un'arma. Raga. Mentre ok. Raga ho 30 di ferro per ora. Dov'è? Sarà la seconda ceste. Raga. 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 Come l'ho detto, andiamo subito in partita. Dai questo qua pure aveva scudo. Prima raga mi sono preso un colpo. Vabbè, andiamo verso i siepi. Ma qui c'era un po' un po'. Vabbè l'ho trovato giù alla fine quindi non cambia. dai su qua con i cilini. Ah. Vabbè. 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 Vabbè raga. Ce lo possiamo fare. Vabbè raga. Ce lo possiamo fare. Voi? Metemi nei commenti se volete ve la sciuppate. Cioè io sono invecino se sciuppare il pass oppure la recon. Non lo so raga. Raga facciamo così che la prima volta posso usare piccone solo per spaccare il tetto e poi basta. Cioè perché sennò è troppo difficile. Poi raga domani uscirà sul canale un'altra challenge che sarà... No non ve lo dico. Non ve lo dico raga dovete aspettare domani e andare sul canale. Quindi adesso raga posso spaccare solo qua eh. Poi basta. Adesso basta. Vai. Adesso inizia veramente la challenge. Uh buono 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 buono. Quindi ciao ciao piccone. Raga devo andare da qua. Raga devo fare per forza così. Raga prima di ricaricare guardiamo se qua c'è un assalto oppure un vampa verde o qualcosa che c'è. Ottimo. No canato. Mettiamoci posto il load out. Raga ricarichiamo. C'è messi i cildini. Raga. Uuuu. Non poteva darti mazze. Cioè l'unico problema di questa challenge sono i mazze. O li prendi dalle ceste oppure se kill i nemici. non poteva varyi. Che direi di andare? Perché stanno... Uccidendo. Oh raga gente qua. Ma lui non sa che ho pochissimo mazze. Oh raga... C'è gente qua? raga sono morto basta no non mi ho messo il pavimento raga addio ecco ahhh facciamo la terza partita dopo chiudo il video dai sto qua con le mine però poi raga non mi metteva il pavimento poi sto qua che arriva dal nulla io ragazzi vorrei andare in un posto più camper cioè tipo in un posto piccolissimo dopo andiamo nelle città io ce l'ho un po' strano ce l'ho ce l'ho voi la scoprirete allora raga il posto è proprio questo qua dove dopo c'è il bagno possiamo andare di sotto prendere la cesta degli scagnozzi dopo potremo anche andare a fattoria poi lì c'è anche il ponte da luttare poi raga là c'è la casa di babbo con le lì tre ceste e un po' di lì vabbè rai allora se non ci sono armi sul tetto vado prima al ponte a prendere armi quindi stiamo un po' più alto no c'è gente fra vai via vai via fra vai fattoria vabbè dai raga andiamo noi fattoria allora raga io scendo di solito sempre là però adesso scendrò qua perché anzi no no andiamo là allora raga piccola visto che non sono sul tetto non lo uso più per ora pump zero zero di must zero no volevo scambiare piccola vabbè ah raga allora raga io visto che ho zero di must per andare sopra raga è impossibile raga per piacere fatemi spaccare qua almeno ma raga ma raga mi fate spaccare qua almeno no 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 per piacere ma perché mi mette è perché raga è la tentazione che c'è scritto spazio e tu schiazzi spazio ti fa schierare raga spacco solo qua insieme mazze 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 guarda qua i 12 coprendo di legna li scrivo qua allora vai quindi raga ho 30 di mazze uuuh gg raga ma non so se prenderlo ragazzi si sono troppi i colpi mi sono troppi i colpi raga però in realtà mi sono ricavate 30 di materiale di giù colpi piccoli non è un assalto un assalto sono messo bene per ora per ora lì ci dovrebbero essere dei paracaduti che abbiamo subito a prendere e ci dovrebbe essere la cassa dietro quindi se non mi da la mitraglietta la cassa io uuuh mitraglietta uuuh pure quindi subito 48 e basta allora raga lì c'è lì ricottere oppure guardiamo se alla casa c'è ecco raga andiamo nella casa noi ce ne freghiamo di quello sopra dentro la casa vado se mi stanno sparando tantissimo vediamo faccio munizioni 30 quindi sono 120 di mazze uuuh altro mazze 26 va benissimo 4 raga qui c'è una cesta uuuh raga non ci credo scar stavi certo scarviola vigi siamo in 47 raga andiamo a prenderci qualche kill raga forse ecco che prendo il piccone io forse stavo dicendo che circa dopo domani farò uscire un video in creative dove farò box fight con un mio amico davvero gente qua sarò andatevi oh passi è fuori raga ma è un'impressione o anche voi fate fate facendo pochissimo con il pompa anche in creative oh che tante nuove non è capito infatti voglio c'è simile va bene raga spero che il video vi sia piaciuto vi ricordo di lasciare 5 like per un prossimo video e 10 like per vedere il mio primo account raga spero che il video vi sia piaciuto è bello e bello ciao ciao